L'amplificatore, la cavità, il magnete, interferenza, sovrapposto in 50 Hz, posizione verticale della parte sensibile, che è quella del cavo interno. Ci sono inegamente delle vibrazioni, i provosti, non maniate alternato. Quell'interferenza che si vede sotto è la vibrazione del ventilatore, siccome è sensibilissimo. Questo invece è l'effetto del campo magnetico sull'onda, destra e sinistra. Così con il ventilatore a ridotto si vede, è quasi sparito l'interferenza. Adesso si vedono quei pellamini, ecco l'allungamento da un lato, l'allungamento da un lato.